In queste 5 settimane cercheremo di farvi vedere tutti i servizi compresi all'interno del pacchetto Union Lido ad esempio quest'area è riservata per quanto riguarda la piscina alle persone che soggiornano in hotel o nei vari appartamenti quello però che ci preme ricordare è che è soltanto una delle tante piscine che ci sono perché in tutto l'Union Lido c'è un vero parco acquatico per i bambini, soprattutto per i bambini un parco acquatico per i più adulti, uno addirittura interamente strutturato sulla sabbia quindi per ricreare veramente un gioco in mare e poi la possibilità di godere dell'acqua anche a livello di ginnastica perché ci sono corsi di acqua gym, acqua fitness che si sviluppano al mattino esattamente come al mattino è l'ora ideale per imparare a fare un po' di immersioni subacquee insomma questo ve lo faremo vedere, ve lo testimonieremo, la piscina esiste a Union Lido tanto quanto a Belluno la piscina comunale infatti si è organizzata e per coloro i quali non possono essere qui con noi al Cavallino Treporti possono restare in città e godere dei benefici della piscina comunale di Belluno Una struttura moderna e funzionale permette di ospitare a Belluno tre piscine dalla vasca Baby alla vasca Nuoto fino alla vasca Tuffi con la presenza di eventi di rilievo L'Ambioi è centro sportivo attento anche al benessere della mente e dispone di un ampio solarium, sauna, bagno turco e zona relax in grado di coprire le necessità di qualsiasi tipologia di clientela la piscina di Belluno è aperta tutti i giorni d'estate con una favolosa offerta che vi permette di entrare con un solo pass due volte nella stessa giornata e per chi non rinuncia alla ginnastica nemmeno d'estate provate le sessioni da 45 minuti di Acqua Fitness una sferzata di energia a stretto contatto con l'acqua Piscina Comunale di Belluno, all'Ambioi Telefono 0437 94 0488